Affidamenti diretti senza procedure comparative, liquidazioni con abuso di risorse finanziarie destinate all'ammodernamento tecnologico e persino autopagamenti. E' il quadro emerso dall'inchiesta condotta dalle fiamme gialle di Popoli presso i comuni di Picciano e Pesco Sanzonesco, provincia di Pescara, nell'ambito dell'operazione Easy Game, per cui sono stati denunciati per abuso d'ufficio 5 e responsabili dei servizi tecnici e finanziari segnalati anche alla Procura regionale della Corte dei Conti per aver cagionato un danno erariale di 28.000 euro. Le irregolarità riguarderebbero appalti pubblici banditi dei due enti locali per rimediare alle recenti emergenze climatiche e ambientali che hanno colpito il territorio dal sisma dell'agosto 2016 al maltempo del gennaio 2017. Si parla di opere di interesse collettivo per la realizzazione delle quali sono arrivati alle casse locali contributi straordinari con annesso stanziamento di appositi fondi di risorse finanziarie da destinare a titolo di incentivo ai dipendenti pubblici per lo svolgimento di funzioni tecniche. Una cassa che si è trasformata in poco tempo in un tesorotto di quasi 56.000 euro da ripartire sulla base di un regolamento adottato dai comuni secondo i rispettivi ordinamenti tra i responsabili delle funzioni tecniche e finanziarie e i loro collaboratori. E' da qui che sembra sia partito una catena di montaggio che ha portato all'abuso di metà del fondo 28.000 euro di incentivi indebitamente liquidati per i motivi più disparati. Affidamenti diretti senza procedure comparative, assenza di copertura finanziaria, compimento di attività non incentivabili e non specialistiche come generici studi di fattibilità ovvero sviamento del 20% delle somme destinate all'innovazione tecnologica o ancora mancato pagamento delle quote previste per l'IRAP, la Cassa Pensioni Depositi Enti Locali e l'INAIL. E nel team dei tecnici c'è stato anche chi, in assenza del provvedimento autorizzatorio di un responsabile terzo, gli incentivi se li è autoliquidati.